Adesso mi sto godendo tanto questa libertà di poter scrivere, di poter parlare di economia, di politica e spero di poter aiutare anche le persone a ritrovare una passione e ritrovare la complessità e chiedere, pretendere. Quello che io dico, la competenza in politica non è un privilegio da lite ma è un diritto di tutti i cittadini perché i politici competenti sono un servizio per i cittadini. Questo io dico.